Un convegno sul tema del contributo delle donne alla guerra di liberazione e alla formazione di una Repubblica Democratica è stato organizzato a Verbagna dal Comitato Resistenza e Costituzione insieme alla Casa della Resistenza. L'incontro, intitolato Gisella e le ragazze della Resistenza, è rivolto agli studenti, ha raccontato, partendo dalla figura di Gisella Florianini, il percorso di vita e le scelte di alcune donne che hanno dato la vita per la buona politica.